In tal modo noi diamo un numero che è rappresentativo della percezione dell'odore. Questo numero può essere poi utilizzato in diversi modi e indubbiamente rappresenta una carta in più, diciamo così, per l'impianto, in quanto conoscendo i numeri delle emissioni, di tutte le emissioni dell'impianto, un impianto potrà adeguarsi alla normativa in vigore, realizzare dei sistemi di abbattimento mirati, potrà concentrare l'attenzione su determinati punti critici dell'impianto stesso. La misura olfattometrica permette di quantificare la concentrazione di odore, come se l'odore fosse un inquinante qualsiasi. Esiste una scala di valori e come si possono catalogare gli odori? La quantità di odore si misura, secondo la normativa UNIEN 13725, in unità odorimetriche al metro cubo. La norma dice che l'aria ambiente può avere una quantità di odore variabile tra le 5 e le 40 unità odorimetriche. Ad esempio, all'interno di una stanza normalmente popolata, quindi di uno a cale chiuso, ci sono circa 50-70 unità odorimetriche europee al metro cubo. Un altro esempio, l'erba appena tagliata, diciamo che si aggira sulle 300 unità odorimetriche al metro cubo. Certo è che tante volte è difficile dire quant'è un odore che dà fastidio e quant'è un odore che non dà fastidio. Si può ricorrere però ad altre scale e il nostro laboratorio fa anche questo, quindi studia l'intensità di un odore piuttosto che la sua piacevolezza o spiacevolezza. Questi studi vengono realizzati sulla base di altre norme, che sono le norme VDI, in vigore in Germania, e queste norme spiegano come utilizzare diverse scale. Una è la scala dell'intensità che va da 0 a 6 e serve per dire quanto un odore è percepito come intenso oppure è assolutamente inesistente. L'altra è la scala della piacevolezza, quindi del tono idonico, che va da meno 4 a più 4. Meno 4 è un odore molto sgradevole, più 4 è un odore molto gradevole. Per fare degli esempi, diciamo che a meno 3,85 c'è l'odore di cadavere, mentre a più 3,5 c'è l'odore classificato come più piacevole, quello del pane fresco. Voi operate soltanto nel campo dei permessi o avete il progetto di operare anche con le industrie per produrre profumi, odori in questo ambito? Ci è capitato anche di operare con le aziende, non tanto per quanto riguarda la produzione di profumi, in quanto entriamo in un campo molto delicato e per assurdo oggi, facendo delle ricerche di mercato, si è visto che il profumo migliore è quello che non copre, quindi non ha profumo quasi. E questo è un campo molto complesso che di solito le aziende preferiscono analizzare all'interno, con i propri centri di ricerca e sviluppo. Abbiamo collaborato comunque con il centro ricerche Fiat, per quanto riguarda la classificazione, mettiamo la così, dell'odore di nuovo delle automobili, quindi per capire a cosa era associato l'odore piacevole, e quindi la sensazione piacevole che uno prova quando è al volante di un'auto nuova. E lo studio aveva lo scopo anche di capire come cercare di ripetere, se possibile, l'odore di auto nuova all'interno di un'auto usata. Abbiamo lavorato invece, è stato uno studio molto interessante da parte nostra, per quanto riguarda la concentrazione di odorante, che è corretto utilizzare per odorizzare il metano. Abbiamo fatto degli studi, nell'ambito anche di alcune cause in tribunale, in cui appunto determinavamo perché si erano accaduti degli incidenti in abitazioni, a causa appunto della presenza o meno di odorizzante nel metano. Perché nel metano mi sembra, cioè il metano non ha odore, mi viene inserito per appunto come segnale di allarme. Esattamente, e in un caso che abbiamo analizzato cosa era successo? Che a causa del troppo odorizzante inserito, uno aveva una percezione immediata di odore, però l'olfatto si assofaceva immediatamente alla quantità di odore presente, e quindi nonostante ci fosse tanto metano, tanto che il palazzo è esploso, persone non avevano questa percezione di odore continuata nel tempo. Barbara Culos è tecnico del laboratorio qui a LOD. Ci puoi spiegare come vengono utilizzati e elaborati i dati ottenuti dall'analisi degli odori? Quello che LOD è in grado di realizzare, oltre delle analisi olfatometriche semplici, sono l'applicazione di modelli di dispersione, l'utilizzo di nasi elettronici, la misura del tono edonico, e anche la correlazione con analisi olfatometriche e analisi chimiche. I modelli di dispersione sono dei modelli che riescono a simulare qual è l'impatto, quindi qual è la ricaduta di odore degli impianti sul territorio. Partendo da dati meteorologici e dati di odore, di flusso di odore, quindi i dati che vengono appunto ricavati dall'analisi olfatometrica, si riesce a disegnare sul territorio queste curve di isoconcentrazione. Un'altra applicazione importante che si basa sempre sulle misure olfatometriche sono i monitoraggi che noi realizziamo con i nasi elettronici. Questi strumenti sono degli strumenti complessi che assomigliano molto al naso umano. Come viene realizzato un monitoraggio con i nasi elettronici? Si compone sostanzialmente di tre fasi. La prima fase è appunto l'addestramento, la seconda fase è un monitoraggio e la terza fase è l'elaborazione dei dati ricavati durante il monitoraggio. Durante la fase di addestramento i nasi vengono addestrati appunto con i campioni che sono stati prelevati per l'analisi olfatometrica. In questo modo i nasi sono in grado di riconoscere successivamente l'odore per cui sono stati addestrati. Una volta che i nasi sono stati addestrati, vengono installati presso il territorio per l'analisi in continuo dell'area ambiente. Un naso elettronico viene generalmente installato all'interno dell'impianto in questione e l'altro, un naso elettronico, viene installato presso un'abitazione. Per un periodo generalmente che varia dai 10 ai 15 giorni compie una misura dell'area ambiente ogni 15 minuti. Quindi è uno strumento utilissimo per individuare sia se in un impianto, se viene preso in un impianto, quindi presso il recettore esiste un impatto olfattivo, sia per l'impianto stesso, per i gestori dell'impianto stesso, perché è in grado di individuare tra le classi olfattive dell'impianto, quindi tra le varie sorgenti olfattive dell'impianto, qual è la principale responsabile dell'odore che si percepisce poi all'esterno dell'impianto. Ultima parte sono le analisi chimiche. Vengono prelevati per ogni campione chimico, vengono prelevati tre campioni olfatometrici. In questo modo, dalla comparazione dei risultati, riusciamo a individuare se ci sono dei composti chimici che principalmente causano poi l'odore all'emissione. In questo modo riusciamo anche spesso ad aiutare i gestori dell'impianto, ad esempio nella scelta di un sistema di abbattimento, perché sarà più orientato all'abbattimento dell'odore o all'abbattimento di qualche composto o qualche famiglia di composti chimici specifici, come potrebbero essere ad esempio le aldeidi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.